L'archeologia è un modo di navigare alla scoperta delle tracce del passato per raccontare le civiltà che ci hanno preceduto e così anche per dare delle risposte al presente che viviamo. Per me è un modo di guardare e scoprire culti, riti, identità di popoli che tramite pratiche scultore arcaiche aspiravano a creare un dialogo tra terra e cielo, tra l'umano finito e l'assoluto infinito. Immagino che la storia di questi archetipi possa ricollegare la mia vita al macrocosmo delle narrazioni universali. Penso alle grandi pietre, agli allineamenti di giganteschi monoliti che seguendo una linea immaginaria collegano il Mediterraneo, l'Europa continentale e quella del Nord. Dalla Sardegna, mia terra natale, alla Sicilia, isola in cui sono cresciuto, questi monumenti del passato, attraversando l'arco alpino e prealpino, si ripresentano nei territori celtici della Bretagna, in Francia e nelle isole dell'Oltremanica, in Scozia. La connessione alle antiche pietre rette dall'uomo in tempi preistorici, simboli del sapere degli antichi e della loro relazione con l'universo, contribuisce all'attivazione di nuovi processi mentali. Un engramma, una traccia mnemonica, un'impronta che si forma nella mente quando nuove informazioni o nuove esperienze vengono assimilate. Assisto alla nascita di nuova creatività in connessione con le radici stesse dell'esistenza. All'interno di questo mio viaggio nascono gli Illusory Bodies, una serie complessa di elementi installativi, scultorei, che costruiscono un paesaggio archeologico, immaginario e metafisico. Illusory Body è un corpo che respira, una forma primaria che prende vita dal mio rapporto con le forme archetipiche legate alle origini di un tempo infinito. Un tempo enigmatico che cerca le sue risposte immaginando di poter condensare l'infinito. La natura vitrea o minerale dell'Illusory Body crea un dialogo con la Terra, mentre l'interazione con la luce e la sua verticalità lo proiettano verso l'universo, proprio come invenire. Grazie a tutti.